Terminio motori, emozioni su strada, Viale Italia Avellino. L'immigrazione è una cosa dell'umanità, che oggi sono i migranti che vengono dalla Siria, dall'Ibia, di tutti questi paesi che l'Italia conosce bene, perché l'Italia è uno dei paesi in Europa che accoglie i più migranti. È una cosa che se noi non consideriamo come importante, questo potremo fare i muri i più grandi, ma questo fenomeno crescerà e siamo tutti implicati in questo. Io sono fiero, direi, di come l'Italia accoglie, non dico che accoglie sempre bene, ma l'Italia si ritrova con questo problema e non ha aiuto degli altri paesi europei. Comunque, se hanno un aiuto, non abbastanza. Ho degli amici, per esempio un amico che è a Miraglio, che lui è sulla barca che va lì in mare e che va a raccogliere questi migranti. È una strage terribile. Perché questa non dobbiamo mai dimenticare che noi siamo stati i migranti e dunque è un fatto che crescerà ancora di più. E come lo dicevo, possiamo fare come il Presidente Trump, mettere dei muri tra paesi, ma l'immigrante scavalcherà questi muri. E dunque dobbiamo assolutamente aprire i bracci, gli occhi, per poter essere umani e accogliere questi migranti in buone condizioni.